Ciao a tutti, è arrivato il momento di aprire il calendario di Paul & Jo, che è questo qui, con i gattini, e sono curiosissima. Non ho voluto vedere cosa c'era dentro per lasciarmi la sorpresa, però per prima di tutto voglio dirvi che il trucco che mi vedete l'ho fatto con i prodotti di MAC che vi ho mostrato, che ho passato con gli sconti, ho usato la palette e ho usato il colore viola. Quello, ve lo faccio vedere, questo qui centrale, che in realtà non è pigmentatissimo, vederlo così sembrava più pigmentato, invece non è proprio, vedete che non è intensissimo, perché comunque sfumandolo si perde un po'. E poi ho usato questi qui per illuminare l'angolo interno, questo e questo. Non sono tanto pigmentati, ma credo che siano proprio così gli ombretti di MAC, che comunque rimangono sfumati, rimangono eleganti. Vedete, non è che siano poi luminosissimi, però, vedete, credo proprio che almeno tutti gli ombretti, le palette che ho di MAC sono così, non sono mai pigmentatissime, però sono ombretti facilissimi da sfumare. E invece è molto bello, è questo azzurro, che era invece l'ombretto singolo che ho preso, che ho detto che si chiama, Parkling, e che sugli occhi è proprio azzurro. Lo vedete così, ma se dovessi farvelo vedere per così, che non riesco, rimane praticamente viola, se lo metto così lo vedo viola, però sull'occhio questo è il colore, comunque è bellissimo, è veramente bello. Si sbriciola un po', che sentivo un po' di granellini che mi cadevano sul viso, però insomma, anche questa mi sembra una cosa abbastanza frequente in questo tipo di ombretti di MAC. Poi ho usato la palette viso come blush, viene il risultato proprio di un blush luminoso. Io ho utilizzato tutte e due insieme, tra l'altro non si rovina per niente la cialda, non è minimamente polverosa, è proprio super compatta, super dura. Quindi tutto insieme per ottenere questo effetto blush luminoso e poi soltanto invece questa parte più chiara come illuminante. E poi il rossetto che è bellissimo, questo me lo devo tenere proprio a portata di mano perché è veramente bello. Che tra l'altro sembra molto più scuro, cioè visto così sembra un viola scuro, un po' metallico. Invece sulle labbra il risultato è questo. E comunque è bellissimo e anche si vedono come dei riflessi azzurri. È veramente bello, bello bello. Questo devo tenerlo proprio vicino, lo ho portato di mano. Ok, detto questo, passiamo al calendario. Purtroppo è pomeriggio, sta facendo buio, però vabbè. Vediamo di riuscire ad aprirlo comunque. Allora, quindi il calendario è fatto così. Si apre qua, guardate che carini che sono tutti i disegnini. E poi si apre di qua. Eccolo qua. Guardate che bella questa qua, che grande. Comunque è troppo carino. Guardate, fanno di zenzero, che bellino la casetta. È molto carino. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo il numero uno, che è questo qui, grande, grande. Qua. Non sarà molto facile tenerlo su così, eh. Un po' complicato da tenere. Però volevo farvi vedere. Ma si aprono benissimo. Ecco, perfetto. Qui, cosa troviamo? Pochette. Pochette. Mmm. Come l'hanno incartata per facerla stare. Guardate che carina. Che carina. C'è il numero di telefono di Paul and Joe. Dice, sai qualche problema con me? Telefona. Ma quanto è carino. Ah, c'è scritto la stessa cosa da una parte dell'altra. Carina. Insomma, è piccolina, però è molto bella. Questa lucida. Carina. Ecco, forse questa era l'unica cosa che avevo sbirciato. ma guardavo le foto del calendario mi rifiutavo proprio di concentrarmi sulle cose perché volevo che rimanessero una bella sorpresa. Allora, numero due, qua. L'ho fatto anche bene perché si aprono bene le caselline. Cominciamo a far cadere le cose, eh. Ovviamente. Quindi, numero due. Questa è di plastica. Cosa sarà mai? È scritto a mente piccolo che non ve lo so dire. Facciamo gli occhiali. Vediamo se la situazione migliora. In che lingua è scritto? È un primer. Praticamente è un primer luminoso. Vedete che ha dentro dei glitter dorati. Un primer luminoso. Peccato che sia di plastica. Questo packaging è un po' economico, diciamo. Comunque si dovrebbe essere un sparkling foundation primer. base siero. Quindi è un primer luminoso. Vediamo com'è, sono curiosa. È proprio un gelatinoso. Adesso lo sto mettendo ovviamente su altri, su altri colori. C'è un po' di alcol, secondo me. Profumo molto delicato. Ebbene. Tolgo gli occhiali, poi se necessario li rimetto. Numero tre. Qua. Vediamo. Che cos'è? Ma io credo che dovrò tenere sugli occhiali perché le cose sono scritte proprio piccole. Questo lì, Blacker Limited. Che cos'è? È un prodotto per labbra. Che non si apre nemmeno, tra l'altro. Forse un balsamo labbra? No, è molto colorato però. Fate. Coloratissimo. Sì, però sembrerebbe un balsamo labbra. Facciamo che tengo gli occhiali perché veramente non vedo niente, sta anche facendo buio. Allora. Pone in giù, Lip Lack, Limit 001. Quindi sarebbe un... Ma è tipo una lacca per labbra, non so. Tipo un gloss. È molto denso. Comunque sembra abbastanza... Cioè sembra luminoso. Colore poco, rosellino ma poco. Bisogna capirli i prodotti. Poi, numero 4, giusto. 4, dove c'è questo bel gattino. Ma c'è una pecorella però, non c'è un gatto. C'è una pecorella carina. Che cos'è questo? Oh. Che cos'è? Questo mi sa che è il... Come... Cioè praticamente dentro qui si mette il prodotto, secondo me. È tipo un porta... Boh, un porta illuminante, un porta blush. Non so, probabilmente dovremo qualcosa da mettere qua dentro. Credo, perché così qua non c'è niente. C'è anche la pellicolina protettiva ma non c'è niente. Spero che non sia un errore. Cioè che sia vuota. Che non ci sia niente dentro. Speriamo di no. Poi... 5. Altro bellissimo gattino qua. Ah, ecco. Ecco svelato il mistero. Eccola qua, la cialda che va dentro lì. Così intanto, ho capito, sono due caselline invece che una. Furbetti. L'avessero messa già composta. Eccolo qua. Vediamo cosa c'è scritto. È un powder blush. Imposta. Che lo mettiamo qua dentro. No, dove è la pellicola? Qua. Ok, sembra quasi... Sembra calamitato. Colore 012. Sì, è calamita. Eccolo qua. Carino. Quindi c'è questa parte più chiara, questa più scura con dei glitter. Questa mi sembra opaca e questa invece con i glitter. E la bella pecorella. Carino questo. C'è anche la plastichina, la mettiamo sopra e chiudiamo. Carino. Quindi, poi andiamo al numero 6 che è... Sì, eccolo qua. Quindi credo che abbiamo diviso metà e metà. 6. La calzina della Befana. Uh! Questi sono quei packaging particolari. Però anche questo è di plastica. Di plastica. Cosa sarà mai? Una lozione idratante. L'impressione che aveva avuto quando vedevo i prodotti sul sito. Li trovavo su... Forse sempre sul figlio Nick. Questo l'ho preso sul figlio Nick. Sì. Mi sembra vanno fatti tipo ceramica. Invece questi qui sono di plastica. Comunque questa qui sarebbe una crema idratante. Vediamo com'è. Sì, mi sembra che è piuttosto liquida. Profumo. Che profumo ha? Profumo delicato. Cioè, ben... Cioè, come dire, intenso ma anche delicato. Poi, quindi dove siamo? 6. 7. Vediamo cosa c'è nel 7. Altro contenitore di plastica. Ma come è di plastica? Mmm. Questo è olio. Olio per fare cosa? Non si sa. Olio. Questa è... Mmm. Plastica un po' più rigida forse di questo. Sembra quasi più ceramica ma... Non so. Perché non sia sempre plastica. Comunque questo qui è un olio. Sentiamo. Che ha un po' lo stesso odore di quello là. Della crema. Un olio. Mmm. Sporremmo di trovare qualcosa di bello. Per adesso... Allora, numero 8. Qua. Altro tubetto. Cos'è? All... Che cos'è? Crema e color. Quindi un ombretto cremoso. Numero 002. Ombretto in crema. Questa mano qua. Ci ho messo sopra di tutto. Vediamo com'è. Lombretto in crema. Anche qui. Ha un semplicissimo tubetto di plastica. Oh. Mi sarebbe aspettato qualcosa di più costoso. Insomma. E questo è l'ombretto. Bello. Bello. Sembra un bronzo. Un bel bronzo. Immagino che si asciugherà e non si sposterà più. Però non si asciuga immediatamente. Carino. Carino. Siamo arrivati al 8. Sì. 8. 9. Qua. Ops. Queste sono le mollette per i capelli. Le pinzette per i capelli. Ovviamente con il gatto. Sono un po' più buffe. Quindi messe così. Ecco perfette per me. Poi l'ingio. C'è scritto. Ci sono i baffetti del gatto. Le orecchie. Vabbè. Sono carine. Un po' bambine. Un po' per bambine. Però vabbè. Poi. 10. 10 che è qui. Tutti i tubetti. Questo è. Questa è una crema a mani. Crema a mani. Profumo. Sempre uguale. Sì. Eh. Questo confino. Aspetta. Che non posso identificare. Di qualche. Secondo me. Di qualche fiore. Ma. Non riesco a capire esattamente di quale. Ma insomma. Sono messo anche sul naso. La prima. Vabbè. 9. Cosa manca? 10. L'abbiamo aperto. Manca l'11. Manca il 12. 11. Questo è interessante. Questo qui. Eh. Manca. Manca altri assetti che avevo preso. Io da loro. Sono di cartone. Praticamente. È cartone. Però è bello. Perché guarda quanti fiori che ha. Carino. Vediamo il colore. Ops. Sorpresa. Che qua. Sorpresa. È vuoto. Perché adesso troveremo sicuramente il rossetto da mettere dentro. Perché anche loro fanno le cover a parte. Che uno può scegliere. Sì. È cartone. È cartoncino. Però sono carini. Quindi andiamo a vedere cosa c'è nel 12. Ma immagino che ci sarà. Che ci sia un rossetto da metterli dentro. Eccolo qua. E questo è il 12. Quindi lì togliamo il tappino. Se ci riusciamo. Mamma mia. Che uso bene. Ce l'ho fatta. Ecco. E anche questo rossetto di quelli che io non userei mai. Perché sono troppo carini. Cioè guardate. Non me l'ho messo dentro. Guardate quanto è bello. Il gattino. Come si fa ad usarli questi prodotti qua. Proviamo a prendere il colore dietro. Senza rovinarlo. Sì beh come colore non è colorato. È sembra più un balsamo labbra. Molto luminoso. E poi si chiude. E poi si chiude. Carino. Dobbiamo a far combaciare i fiori. Simpatico. Adesso passiamo all'altro lato. E va aperto di qua. Così. Guardate. Sono incassato i capelli. Ecco qua. Quindi ora dobbiamo andare avanti dal 13 al 24. Allora il 13 è qui. Bello grande. Vediamo se adesso così. Che cos'è questo? È un sacchettino praticamente. Un sacchettino con il nastrino. Si chiude. Carino. Simpatico. Sempre con tutti i fiori. Simpatico. Diciamo simpatico. Poi il 14. Dov'è il 14 qua? Il 14. Altro tubetto. Questo è un gel struccante. Un gel struccante. Mi stanno deludendo questi tubetti di plastica. Così un po' insignificanti. Cleansing gel. Quindi uno struccante. Poi tra l'altro è anche poco. Quanto c'è dentro? Sarà 10 grammi. Non so quanto può essere. C'è scritto. 10 grammi. 10 grammi. Ma. 15. 15 qua. Ce lo facciamo. Che cos'è questo? Vabbè questo almeno non è un tubetto. Body oil. Un altro olio. Prima ho avuto l'olio. Questo olio corpo. Boh. Io sento sempre lo stesso profumo. Andrò a vedere di che si tratta. 14. 15 l'abbiamo aperto. 15. 16. 16. Qua. Anche questo è di plastica. Ecco io pensavo a vedere. Vedendo sul sito questi prodotti. Pensavo che fossero di ceramica. E invece è plastica. Plastica. Questo che mi sta un po' deludendo. Che cos'è? Fondotinta Primer. Foundation Primer. Qua dice Primer. Però mi sembra. Mi sembra colorato questo. Eh. Colorato. Non capisco. Che cos'è? A me sembra un fondotinta questo qua. Forse no. Forse no. Perché in effetti poi sparisce. Ma forse è un primer davvero. Ma. Poi vado a leggere dietro. Che sicuramente c'è scritto tutto. Poi. 17. Questo. E' un altro vasetto di plastica. Herbal lotion. Lozione alle piante. Per farci cosa? Sempre questo odore. Che non capisco. Però anche questa è plastica. 17. Poi. 18. Lo abbiamo aperto il 18. No. Lo abbiamo adesso. Ah. Altra cover. Anche questo è vuoto. E anche questo è plastica. Io pensavo fossero belli pesanti questi. Andiamo a cercare lo set. Che sarà sicuramente qua al 19. Eccolo qua. Andiamo a metterlo qua dentro. Si incastrano bene. Però è proprio plastica. E questo è il rossetto. Che ha questo fiore. Impresso. Un fiore. Eccolo qua. E questo mi sembra un rossetto rosso. Ma è colore bello. Non è proprio rosso. E' un rosa. Rosa rosso. Carino. Ma pensavo che fosse più pesante. Più. A me sembrava. Mi sembrava ceramica. Ceramica addirittura. Dal sito. Ero convinta che fossero tutti di ceramica. Belli pesanti. E invece no. Sono arrivati al 19. Il 20. Qua. Qui c'è un vasetto. Sarà un balsamo labbra? O sarà vuoto? Vediamo che c'è scritto. Lip. Sì. Trattamento labbra. Sì. La scatolina è molto carina. Ovviamente non riesco a... Ah si svita. Non riuscivo ad aprirlo. Eccolo qua. Anche dei glitter. Odore. Sempre quello. Odore sembra sempre lo stesso. Quindi questo è proprio una gelatina. Un gel. Balsamo labbra. Carino il vasetto però. Almeno questo è di metallo. Non è di plastica. 20. Poi 21. Questo qua gigantesco. Ci sarà un'altra pochette? Probabile. Ok. Che cos'è questo? No forse non è una pochette. È tipo un panno sfaccante. Qualcosa del genere. Carino però. Sembra una piccola asciugamanina insomma. Una asciugamanina con liga. Sarà anche surcante immagino. È simpatica. È simpatica. Poi. Gli ultimi due. No gli ultimi tre. No? Gli ultimi due. L'abbiamo già chiesto. Gli ultimi due. Alto tubetto. Alto tubetto. Che cos'è? Olio per le unghie. Edizione limitata. Olio per le unghie. Sarà un'inforzante. Alto tubetto. Poi. 23. 23. Questo qui. Una scatolina. Eh. Quindi ora troviamo. Quello che va dentro qui. Questo. Eccolo qua. Quindi questa. Questa è proprio plastica. Ma è. Questa è un po' più solida come plastica. E poi abbiamo qui. La cialda. Che sembra. Boh. Sembrano ombretti questi. C'è anche un. Pennellino. Che ovviamente ho fatto capire. Figuriamoci. Aiuto. E quindi sono questi gli ombretti. Ormai è notte. Questi sono gli ombretti. Quindi c'è uno molto luminoso. Si spera che sia luminoso anche sugli occhi. E uno invece che sembra. Satinato. Non mi sembra proprio matte. No. Infatti. E questi sono. E c'è un pennellino. E vanno dentro qui. Anche questi anche la mita. E questa è. Questa. E questa palettina con questi due ombretti. Abbiamo finito. Quindi. Facciamo un attimo. Tiriamo un attimo le somme. Quindi che abbiamo trovato. Allora. Le cose che mi sono piaciute di più. Vabbè. Lasciando perdere la pochette. Il sacchettino. E l'asciugamanina. Sono molto carini. La cosa che mi è piaciuta. Questo. Questo illuminante. No. Questo blush. Blush. Questo mi piace. Molto carino. E carina anche la confezione. Beh. Non è male neanche questo. Perché è un pochino più pesante. Rispetto agli altri. Questo si è metallo. Latta. Non è plastica. E poi sì. Mi è piaciuto il rossetto. Va bene. Con i fiori. Questo qui. Anche se. Veramente me lo aspettavo pesante. Invece leggero. Deludenti tutti questi vasetti. Secondo me. Cioè. Tutti questi oli. E queste cose qui. Secondo me. Non fanno una bella figura. Su un calendario abbastanza costoso. Non so. Non mi ricordo quanto l'avevo pagato. Però. Insomma. Non è. Non è economico. Le mollettine. Da bimba. Questi. Boh. Primer. Tutti questi tubetti. Boh. Non mi sembrano entusiasmanti. Non lo so. Non lo so. Comunque. Insomma. Questo è. Il contenuto. Devo dire che. Ho delle aspettative. Veramente alte. Su questo calendario. Cioè. Da quel poco che avevo visto. Mi sembrava veramente bello. E invece. Devo dire che. Toccandolo. Con la mano. Quindi. Avendolo così dal vivo. Devo dire che. Sono abbastanza delusa. Non so cosa pensate voi. Però. A me sembra abbastanza deludente. Mi sembra anche. Cioè. Non mi danno impressione. Di prodotti di valore. Cioè. Questi vasetti di plastica. Semplicemente di plastica. Non fanno una bella figura. Secondo me. Cioè. Ma anche proprio. La forma. Che ha. Non lo so. Cioè. Sono rimasta un po' male. Devo dire. E. Non lo ricomprerei. Sicuramente. L'anno prossimo. Cioè. Se proprio dovesse interessarmi. Comunque andrei a guardare prima bene. Che cosa c'è dentro. Perché in effetti. Così. Non lo so. Cioè. Mi aspettavo altro. Però vabbè. Userò questi prodotti. Soprattutto quelli per il viso. La crema a mani. L'userò. Però. Vi ho detto. Mi aspettavo veramente. Cose molto più. Più belle. Molto più. Di valore. Pesanti. Di valore. Invece. È tutto molto. Economico. E quindi. Vabbè. Pazienza. Ora. Ne rimane ancora uno. Che lo aprirò. Nei prossimi giorni. E. Quello. Secondo me. Non sarà deludente. Quello di Zalando. Non sarà deludente. Già. So. Che. Alcune. So. Che ci sono alcune cose. Che. Valgono tutto il calendario. Due cose. Valgono tutto il calendario. Quindi. Insomma. Quello. Non ci deluderà. Di sicuro. Questo. Sì. Quindi. Fatemi sapere. Che impressione avete avuto. E. Io vi do appuntamento. Al prossimo video. Mi raccomando. Non mancatevi. Vi mando un bacio. Ciao.